Benvenuti a questo nuovo appuntamento di Rimecavote, la rubrica storico-culturale del gruppo CavaStoria, patrocinata dal comune di Cava dei Tirreni. In questa nuova puntata vogliamo proporvi una poesia di Adolfo Mauro, pubblicata nel 1969 sul giornale Cavese e la Sagra di Monte Castello, giornale edito in numeri speciali, dedicato prettamente ai festeggiamenti in onore del Santissimo Sacramento. L'autore inizia il suo componimento dedicando una vera e propria lode alla città metelliana e alla festa di Castello, scrivendo E prosegue raccontando delle numerosissime persone che arrivano nella valle metelliana da ogni dove per assistere a tale festa. Racconta della processione per le vie del castello, dei carri secenteschi, dello sparo dei tromboni e delle persone che, cantando, li accompagnano. Nella parte centrale dello scritto si sofferma alla descrizione dei fuochi d'artificio, scrivendo che per tutte le vie dei rioni c'è gente che aspetta questo momento mangiando e bevendo. Prosegue descrivendo l'inizio dei fuochi, dicendo Sembra che sappicci tutto un mondo. Infatti una vecchia tradizione è quella dell'assalto al castello con l'incendio finale. Le persone che fino a quel momento sono impegnate per le vie si fermano per ammirare tale momento, restando incantati e sbattendo le mani per la gioia che questo spettacolo sta portando al loro cuore. Conclude la poesia con una riflessione dei ringraziamenti. Dice il Mauro che la festa sarà una cosa grande grazie all'impegno del popolo, del comitato, della chiesa e delle tante persone che hanno contribuito alla buona riuscita dei festeggiamenti anche se da lontano. Interpreta la poesia per noi Alessandro Bruno. Buona visione! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.